Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia e con gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla FIPILI dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e Lastra Segna in direzione Firenze. Passiamo sulla 1 dove si ricorda che a causa di lavori fino alle ore 18 del 18 marzo rimarrà chiuso il tratto a causa di lavori tra Aglio e Rioveggio in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena Firenze a causa di lavori chiuso lo svincolo di Monte Rigioni in entrata e in uscita in direzione Firenze. Sul raccordo Siena Bettolle per lavori di pavimentazione chiuso lo svincolo di Taverne d'Arbia in entrata e in uscita in direzione Bettolle. Viabilità di Firenze e possibili disagi in piazza Taddeo Gaddi a causa della chiusura della rotatoria tra Via dei Vanni e Via Bronzino. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!